Poi, volevo farvi vedere degli acquisti che stengo tanto. Allora, ho comprato, anzi, il mio ragazzo mi ha regalato, perché lui sa quanto io sono fissata, il libro di Clio Makeup. Bellissimo, pagato, me l'ha comprato un sabato sera, stavamo passando da vicino alla libreria, siamo entrati, io proprio per vedere se c'era il libro di Clio Makeup dovevo ordinarlo, alla fine c'era, me l'ha trovato anche lui, perché io stavo cercando così ma non lo vedevo, l'ha trovato, è andato alla cassa e me l'ha preso. E io tutta felice. Il libro costa 17,50 euro. Vabbè, eccolo qui. Questo. E' un libro veramente dettagliato, bello, con le foto di Clio, che fa vedere come si stende per esempio l'ombretto, mascara, come si usano le ciglia finte, il piegaciglia, come trovare la tonalità, come trovare la tonalità del proprio fondotinta. Tante, tante, tante cose. Cioè, la maggior parte delle cose sono tutte cose che ha già detto nei suoi tutorial e le ripete nel libro. Però, il libro secondo me è molto più comodo di andare a vedere il tutorial, perché se magari tu stai fuori di casa, vuoi truccare un'amica, c'hai il libro a portare di mano senza, magari l'amica non c'è internet, e tu vai, passo passo, e niente. E' molto utile, secondo me. Poi, ho comprato queste salviettine per lenti, da bordo. Non le ho ancora usate, non ho avuto modo di usarle. Niente, queste qua sono salviettine per lenti, anti appannamento, antistatiche, sono 12, sigilate singolarmente. Questo qui l'ho comprato a Epicasa, e le ho pagate 1 euro, 1 euro e 50. Niente, poi, siamo andati io e il mio ragazzo insieme da suo cugino, che ha l'ottica di occhiali, per comprare dei lenchi a contatto, e mi ha regalato questa aziendina della VOD. Stupenda, molto bella. Guardate com'è dentro. Carina, carina. Ops. E poi così. La carta è di quella lì... lucida. Molto lissa, bella. Mi piace un sacco. E poi, le ultime due cosine. Allora, ho comprato, da 99 centesimi, questo kit, dei bastoncini per le orecchie. Ci sono. Conto un fioc. Massimo che l'ho provo. Allora, ci sono dei conto un fioc, e... a punta, una specie di ammatita, anche per fare le sfumature, e quelle cose qui. E poi ho comprato... E poi ci sono... tre vari tipi di cotton fioc, poi dei... non mi esce il nome. Delle VAT. E poi, delle... dei... non mi esce il nome, raga. insomma, per... delle salviettine, diciamo... per struccarsi. Bello, è carino. Poi, sono andata all'OVS, e... ho preso... ho preso... questo qui. Da-da! Ehm... bello, ragazzi. È bellissimo. Cioè, io... sono entrata all'OVS. Stava... proprio all'entrata. Ho visto questo fiore spiccare... un fiore blu. Mi sono avvicinata. Ho detto, ma... sicuramente è un'illusione, no? Perché di solito vedo sempre fiori, ma non li vedo mai con l'asticella. Però, stavolta mi sono avvicinata, ho detto... oh mio Dio, quello è mio! E niente, se non andate le ho prese da Chiusi, perché ha... cioè, io le adoro queste cose qui. Mi piacciono un sacco. E... guardate qui. Vediamo come mi sta. Sì, vabbè. Come questa ciuffa. Niente, vabbè. Comunque, è così. Ehm... E questo qui. Bello. Bello. Non vedo l'ora di farlo. Magari con un bel trucco sul celeste bianco. Bello. Con collane, orecchini, bracciali, vestiti, tutto abbinato. Bello. E poi, sempre da OVS. Il mio ragazzo mi ha regalato questo qui. Questo cappellino qui. Questo qui. Come mi sta? E' carino, vabbè. Con questo fiocchettino qui. E' carino. Mi piace un sacco pure questo. Questo qui stava 12,90 euro. Amore, tanto l'amore mio mi fa i regali. Grazie, amore. Tanto lo so, mi stai guardando. E' in basso. Questi sono i miei acquisti. I miei regalini. E niente. Volevo un po' condividere con voi i miei ultimi acquisti. Spero vi siano piaciuti. Spero vi iscrivetevi al mio canale. E basta alla prossima. Ciao!